Avete scritto in questi giorni al Comune chiedendo una somma, una somma quasi di 80.000 euro, una richiesta di risarcimento danni per i mancati introiti, per i parcheggi. Sì, ovviamente non ci riferiamo al periodo delle nevicate, quelle ce ne assumiamo le nostre responsabilità, abbiamo avuto delle perdite gravi, però è una competenza nostra quindi non chiediamo nulla. Noi ci riferiamo solo all'ultimo anno perché addirittura abbiamo evitato di considerare gli anni precedenti a delle perdite consistenti quantificate in circa 80.000 euro dovute ai legittimi provvedimenti del Comune. Quindi questa è la nostra, non vuole essere una polemica nei confronti dell'amministrazione comunale, è una legittima richiesta, questi danni dovuti a varie manifestazioni, a varie iniziative, a lavori che si prolungano nel tempo eccetera eccetera. Alcuni stalli ritirati a tempo indeterminato per carico e scarico merci che come vedete di carico e scarico ce n'è poco, però diciamo non è quindi una polemica nei confronti del Comune. Questa perdita di 80.000 euro ovviamente ci ha comportato danni economici del tipo tredicesime mancate, ferie mancate, ATFR mancati. Si parla di una proroga e poi di un eventuale bando che non dovrebbe arrivare a breve, quindi volete mettere questo sulla trattativa, sul banco delle trattative? Sì perché la proroga di cui abbiamo notizie sono circa due o tre mesi semplicemente per il tempo di preparare un bando di gara, cioè diciamo semplicemente per una esigenza del Comune di avere il tempo di preparare un bando. Quindi invece questa cosa consinterebbe di dare una proroga oppure con nuove condizioni, come noi siamo disponibili sempre, come abbiamo collaborato con l'amministrazione, a avere qualcosa di più consistente. Non avete paura che questa cosa invece possa inficiare questo contratto? Beh io non capisco perché, qua tutti i nostri concorrenti hanno preso proroghe ben più consistenti, uno 15 anni, un altro non ha preso altri vantaggi perché giustamente, come poi dicono, è giusto, non è che può essere danneggiato un gestore di un servizio che poi fa dei preventivi, dei programmi che poi per volontà legittima altrui non possono essere rispettati. Quindi come il precedente di Piazza Dante ha dimostrato che per un interesse pubblico giustamente l'amministrazione ha dovuto privarci del piano arraso di Piazza Dante, però ovviamente come è giusto per l'amministrazione fare i suoi provvedimenti, era giusto poi risarcire in qualche modo la Tercop. Quindi la nostra, chi la vuole interpretare come una polemica? Evidentemente non vuole molto bene né la cooperativa e non è interessato veramente a salvaguardare i posti di lavoro.